buongiorno e benvenuti in questo nuovo video oggi mi hanno concesso la responsabilità di iniziare con questa ripresa stefano siamo partiti da cappanno tassone cappanno tassone con colazione crostatina ovviamente andiamo in direzione lago scaffaiolo e un'eventuale deviazione dopo viaggiorneremo ci sta da dio la giornata con sole intorno è tutto bosco molto bello tutto verde e noi andiamo a camminare saluti a naso siamo usciti dal bosco finalmente si iniziano a vedere dei panorami niente male niente male ciao 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 eccoci raga allora dopo un'oretta e 40 siamo praticamente arrivati al lago ovviamente adesso incontreremo un sacco di gente perché prima domenica bella dopo un maggio orrendo tutti fuori tutti al lago penso che faremo una piccola pausa lì magari ci fermiamo un attimo anche il rifugio duca degli abruzzi e poi vediamo se magari proseguire verso punta sofia che è un pochino più in alto ci facciamo altri due passi facciamo un altro giretto un altro un altro facciamo un altro giretto un'altra escursione dopo taglio tutto dopo taglio tutto grazie 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 alla prossima anche oggi è la grande ciao ragazzi